E' come il team manager della rappresentativa Calciotto Treviso, Massimiliano Cattarin, anche a te chiedo un commento sulla partita sulla giornata di oggi. La giornata è stata stupenda, bisogna ringraziare tutta la società sportiva Lazio Calciotto, partire dal presidente Liguori, un onore averli qui con noi oggi e poterci confrontare con una realtà così importante e consolidata ormai da tanti anni. Poi la partita, al di là del risultato, il 4-3 finale, si può vincere, si può perdere, ma l'importante oggi era essere qui in campo con loro e secondo me magari ci farà crescere questo molto e penso che con la Lazio ci rivedremo in Russia tra sei mesi e c'è tutto un avvicinamento, servirà a noi molto per crescere, d'altronde se si vuole salire di livello bisogna affrontare certe squadre. E la Lazio, insomma, siamo al top, quindi un grazie ancora a loro, veramente un piacere averlo. Massimiliano, io non ti chiedo un parere sull'organizzazione della manifestazione di oggi, della giornata, perché hai messo anima e corpo e questo lo testimonio io. Complimenti per tutto quello che hai fatto. Ma i complimenti vanno a tutti i ragazzi che hanno lavorato qui oggi, ai giocatori in campo che hanno messo l'anima, e a tutte le persone che sono venute qui a fare il tifo per noi. Bellissima giornata, penso sia una promozione per il calcio a otto e per tutto lo sport, quindi noi qui a Morgano poi riprenderemo da gennaio la nostra attività e aspettiamo i nostri ragazzi perché il movimento cresce e quindi ben vengano manifestazioni come questa.